Domenica delle palme. Siamo abituati in questa domenica, con tanta gioia, con amicizia, scambiarci il ramoscello di ulivo benedetto che è per noi il segno della pace. E ci troviamo anche oggi qui, un po' tra gli ulivi, come segno di questo momento, momento di partecipazione anche di tutta la natura, potremmo dire, come rinascita alla vita nuova. Ecco, però ricordiamo che la vita nuova è quella che il Cristo ci porta e che la pace è quella che Lui celebra con il suo sacrificio. riconciliando l'umanità con il Padre, i figli, con Dio ed essere così colui che nella obbedienza all'amore del Padre offre tutta la sua amicizia, tutto il suo amore all'umanità intera. È ciò che mediteremo in questi giorni per dire che allora la vera pace in noi viene dal Cristo Signore. E la pace non è solo un auspicio, è qualcosa che noi siamo chiamati a far crescere, a sviluppare, a direi a costruire quasi, con le nostre azioni, con le nostre parole, con i nostri atteggiamenti anche di attenzione, di cura per la vita degli altri, di tutta l'umanità, della natura, del mondo intero. La pace si costruisce. E Papa Francesco usa un'espressione molto bella quando ci dice che la pace si costruisce come fa un artigiano e ci invita ad essere artigiani di pace. E allora in questo essere artigiani di pace vediamo la passione del Signore in questa domenica. E mi piace fermarmi sul primo episodio che viene narrato nel lungo racconto della passione. Ed è il momento in cui, due giorni prima che Gesù celebri l'ultima cena, eccetera, si trova in casa di amici e arriva una donna. Una donna anche, ci dicono gli altri Vangeli, non quello di Marco, però considerata come peccatrice nella città, che porta con sé un vaso prezioso di alabastro, quindi un materiale veramente importante e costoso. E per fare quasi in fretta lo spezza, lo rompe, perché il profumo di nardo che in esso è contenuto possa fluire sul corpo di Gesù. E quando gli altri che sono commensali e brondolano per questo gesto, che ritengono uno spreco di denaro, uno spreco di cose preziose, Gesù invece esprime apprezzamento per la generosità di quella donna che ha compiuto verso di lui un gesto che quasi prelude alla sua sepoltura, che quasi prelude al momento in cui, dopo aver dato la vita sulla croce, egli viene sepolto, come usavano gli ebrei, con un guendi che vengono messi vicino al corpo. Ecco, Gesù allora annuncia così la sua passione e accoglie quel gesto di questa donna, un gesto da artigiana di pace, un gesto semplice, dettato da tanto amore come di chi ha ricevuto la salvezza, di chi si è sentita chiamata ad una vita nuova. E quel profumo esprime semplicemente la vicinanza, l'affetto, la dedizione di sé, il voler donare tutta se stessa a colui che ha donato tutto se stesso all'umanità. Ecco così si costruisce la pace, come artigiani e quindi come persone che sono nella condivisione dell'opera di Cristo Signore. E per l'opera di Cristo Signore vogliamo dare quando di più prezioso, di più bello, di più buono noi possediamo, con una certezza. Ce lo diceva Papa Benedetto XVI, addirittura citando Sant'Agostino, diceva che quel profumo che poi si spande per tutta la casa è davvero il segno della verità, della bontà e delle nostre azioni, della nostra carità che partecipa alla redenzione, all'opera di Cristo, partecipa al sacrificio di Cristo e diventa ricchezza di bontà di vita, bellezza e luminosità, potremmo dire, del bene per tutta l'umanità.